Qualche parola su Acquirente Unico che decisamente non è un nome che ricorre spessissimo sulla stampa. Acquirente Unico è una società pubblica appartenente al gruppo del gestore dei servizi energetici che si occupa di, in prima battuta, comprare energia elettrica sui mercati all'ingrosso e poi di trasferire i benefici del mercato libero ai consumatori più piccoli, scientificamente alle piccole e medie imprese e ai clienti domestici. Parliamo di circa 28 milioni di utenti a cui noi trasferiamo circa un quarto del fabbisogno energetico nazionale in termini di energia elettrica. Questa società è stata istituita col decreto Bersani che ha avviato la liberalizzazione del mercato elettrico. A partire dal luglio 2007, quando si è aperta anche il mercato elettrico per i clienti domestici, l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato tramite Acquirente Unico un call center per rispondere a quelle esigenze di informazioni e di supporto per poter fare delle scelte consapevoli per quanto riguarda le varie offerte che potevano arrivare o che sono arrivate poi dai vari venditori sul mercato elettrico. Quindi questa componente è decisamente importante in quanto dal primo dicembre 2009, quindi da 15 giorni, è stato avviato in maniera formale lo sportello del consumatore. Uno sportello in cui i clienti del mercato possono esporre anche dei reclami, possono effettuare un'attività di tutela dei propri diritti e soprattutto anche ricevere dell'informazione in maniera strutturata da una normativa che è abbastanza ricca e complessa in cui viene veicolata in maniera ovviamente agevole per i consumatori. Quindi questo è un aspetto molto importante, questo delle informazioni sui mercati energetici. I mercati energetici, elettrici e gas sono abbastanza complessi, ci sono degli tassi di cambio di fornitore, quindi di accesso al mercato libero sono ancora abbastanza ridotti in Italia, parliamo circa dell'8% per l'elettrico e dell'1,2% sul gas. Quindi poter dare delle informazioni e consentire delle scelte consapevoli ai consumatori di energia elettrica è assolutamente fondamentale per riuscire ad avere un mercato che sia veramente concorrenziale, quindi anche stimolare la presenza degli operatori sul mercato retail del settore sia elettrico che gas. Quindi Acquirente Unico e l'autorità per l'energia elettrica forniscono tutte quelle informazioni che sono necessarie per poter fare anche delle scelte magari a volte anche un po' particolate sulle varie opzioni che vengono offerte dai consumatori. A questo poi vengono date le altre informazioni su determinate iniziative che l'autorità energetica in campo con il Ministero dello Sviluppo Economico avviano a favore dei consumatori, tra cui il bonus elettrico e il bonus gas che è partito proprio da ieri. Parliamo quindi di comunque una croplateria molto ampia di consumatori, parliamo dei clienti domestici, delle piccole e medie imprese, quindi con sotto 50 dipendenti. Le nostre interfacce fondamentali e continue sono le associazioni dei consumatori da confartigianato alle varie associazioni dei consumatori che sono riunite nel Consiglio Nazionale delle associazioni e quindi con loro ci confrontiamo in maniera continua per poter dare un servizio sempre migliore e sempre più efficace. Diciamo che lo sportello è partito all'inizio come un contact center, ma in realtà adesso, dal primo dicembre, è partito in maniera strutturata con due pilastri fondamentali. Da una parte il contact center, quindi si avvale di operatori che vengono formati e sono assunti a tempo indeterminato presso di noi, e poi un nucleo reclami che si avvale di esperti e di operatori. Sottolineo quello che è la particolare peculiarità del nostro personale che deve essere assolutamente formato e aggiornato su una normativa che è settimanalmente, diciamo, aggiornata da parte dell'autorità. Quindi c'è un continuo, come dire, upgrade di quelle che sono le loro competenze. Abbiamo ovviamente un contatto assolutamente stretto con l'autorità che ci aiuta e ci supporta nel formare e aggiornare continuamente il nostro personale. I clienti anche chiedono informazioni sullo stato delle pratiche, dei reclami che hanno svolto. Quindi se c'è stato un rapporto anche magari a volte conflittuale con il venditore di energia elettrica o di gas, e capita come spesso può accadere, da noi chiamano per avere informazioni sullo stato della pratica. Quindi avere anche un sistema di CRM, come citava il collega precedentemente, è assolutamente importante per poter riuscire a dare in maniera tempestiva delle informazioni sullo stato dell'inoltro della pratica nei confronti dell'esercente o del venditore. Quindi siamo al centro di un sistema abbastanza complesso su cui noi facciamo tutta l'attività di istradamento del cliente su tematiche a volte veramente complesse e continuamente in evoluzione. Tutto questo poi produce una reportistica dettagliata nei confronti dell'autorità su quello che è lo stato delle pratiche e soprattutto forniamo anche un'attività di feedback nei confronti dell'autorità in quanto si verifica che c'è qualche operatore che non si comporta in maniera corretta secondo quanto disciplinato, può erogare delle sanzioni oppure se rileviamo che c'è un problema sull'impianto normativo effettuiamo un feedback nei loro confronti dicendo guarda ci sono dei passaggi, dei processi che in questo momento risultano critici e che occorre aggiustare o comunque dare qualche piccola integrazione alla normativa. Quindi nel particolare il contact center si avvale ad un numero verde 800, 166, 154 che è attivo nei giorni feriali dalle 8 alle 18. diciamo che questo numero di telefono ovviamente c'è anche il numero nero per le chiamate da cellulare è il principale modalità di contatto con lo sportello del consumatore. Noi da dicembre abbiamo attivato, anzi il 26 novembre abbiamo aderito all'iniziativa mettiamoci la faccia e abbiamo già nei primi 15 giorni ricevuto abbiamo avuto circa il 5% di redemption sulle chiamate come una soddisfazione di oltre il 95%. Considerate che appunto la tematica è abbastanza complessa e quindi spesso ci sono delle chiamate che vengono effettuate per protestare sul fatto che l'esercente, quindi un soggetto terzo non ha risposto in maniera puntuale. Quindi qui si tratta di andare poi a riannodare le fila di un processo che avviene all'esterno della nostra organizzazione o comunque dei nostri stakeholder principali e quindi dobbiamo comunque farci carico di questa informazione di questo processo esterno a noi.